Ci sono anche novità? Quest'anno la novità assoluta è il tema. Abbiamo scelto il tema sulle donne curvi e Luna Berlusconi ha realizzato proprio per noi un'opera d'arte molto grande 3 metri per 2 che rappresenta la donna sinuosa. Quest'anno vogliamo raccontare la bellezza a 360 gradi e tutte le forme della bellezza e quindi sono onorata di avere veramente dei designer pazzeschi quest'anno che come Pasquale Sieri per esempio che su Red Carpet di Venezia ha realizzato un abiti per Giuliana Francesco che è la testimonia dell'anno 50 del salotto di Avanti Un'Altro ed è stata veramente una vera e propria, è stata divina con proprio il tema di Mad Mood Milano di quest'anno sul Red Carpet di Venezia e avremo l'onore di averla anche noi a Milano.